Musica Malattia di Parkinson e malattia di Alzheimer è stato il tema di un convegno organizzato presso l'auditorium d'Alessandro dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Benevento ed organizzato dal dottor Michele Filippa, direttore dell'unità di neurologia con strocchi unit del RUM. Il convegno affronta due tematiche molto importanti, la malattia di Parkinson e la malattia di Alzheimer. Per quanto riguarda la malattia di Parkinson, oggi daremo i primi risultati preliminari riguardo la rete territoriale di assistenza all'ammalato di Parkinson. Da circa due anni stiamo proprio studiando il modo come poter facilitare i percorsi di assistenza all'ammalato di Parkinson e alla famiglia dell'ammalato di Parkinson. In particolare in accordo con gli neurologi territoriali, soprattutto col distretto di Via 24 Maggio qui a Benevento, diretto dal dottor Iaziolla, insieme al centro Parkinson dell'unità operativa di neurologia con strocchi unit, con la collaborazione del dottor Ricci e l'unità operativa diretta da me, abbiamo affrontato una cartella informatica dove praticamente c'è la storia del paziente e il paziente da qualunque specialista poi andrà avrà la sua storia clinica. Questo per facilitare proprio a chiunque affronti tale paziente un percorso assistenziale migliorativo. In questo vorremmo coinvolgere anche la riabilitazione e altre specialistiche, proprio per dare la possibilità all'ammalato parkinsoniano di affrontarlo nella sua globalità della patologia, perché come tutti sappiamo il parkinsoniano nel decorso della patologia avrà altre comorbidità che vanno affrontate globalmente. Quindi aiutarlo significa non solo sostenerlo nel percorso durante gli anni della patologia, ma anche sostenere la famiglia e quindi aiutare e facilitare la famiglia nel non solo mantenere l'autonomia del paziente, ma anche nel migliorare la qualità e lo stile della vita. Oltre alla patologia parkinsoniana affronteremo la malattia di Alzheimer e anche in questo, sempre in collaborazione con l'ASL, in particolare con il dottor Rino Maio, che è il responsabile geriatra dell'ASL. Fondamentale, come si è compreso, è la collaborazione di equip. Queste patologie croniche vanno affrontate in collaborazione tra azienda ospedaliera e ASL. Noi siamo consapevoli che questa forma collaborativa potrà solo apportare miglioramenti nella qualità assistenziale. È per questo che noi invitiamo i direttori dell'ASL, i direttori dell'azienda ospedaliera, a creare percorsi assistenziali comuni che possono migliorare come esperienze tra l'altro uniche in Campania, perché il territorio di Benevento si presta bene a questo tipo di esperienza e credo sia anche l'unico territorio che finora si stia muovendo in tale direzione. Una volta per tutte cerchiamo di sfatare anche una condizione, cioè che la qualità della sanità si ritrova proprio a Benevento. E quindi questa migrazione dei pazienti che vanno fuori regione deve terminare, perché la qualità della sanità si ritrova qui a Benevento. Grazie. Grazie.